Vedo un bel sorriso nel volto di padre Vincenzo Coli che è il custode di Assisi, grazie della meravigliosa... Vieni qua, vieni. Parte una musica fantastica, Giorgia Fumanti, in bocca al lupo. Parte questa musica, padre Fortunato, grazie di tutto. L'ultima volta il numero 48585. Lui lo dice così. 48585 e fondiamo questo gesto in una parola. Qualsiasi cosa avete fatto ad uno di questi più piccoli, l'avete fatto a me. È il motivo della carità cristiana. Grazie. Grazie, grazie a tutti, Giorgia. Grazie, Luca. Giorgia, il saluto finale con Rose Montorns. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie a Sisi. Grazie a tutti. E tutti vivono in pace ed onestà. Io sogno d'anime che sono sempre liberi come le nuvole che amano. Grazie a tutti.